Ciao, sono Luisa, ho 40 anni, ho iniziato questo percorso da gennaio 2021 e partivo con un peso abbastanza importante, ero sui 117 kg. Adesso siamo a giugno e ne ho persi 24, ma soprattutto ho perso anche tanti centimetri. Ho iniziato con l'alimentazione, avevo provato a fare la ginnastica, ma mi sentivo veramente troppo pesante, facevo veramente tanta fatica a fare gli esercizi e quindi per non demoralizzarmi ho iniziato con l'alimentazione. A marzo ho iniziato il percorso principianti e devo dire che mi sto trovando veramente molto bene e sto avendo comunque dei grossi risultati che era da tanto che non ne avevo così. Per cui sono molto contenta di questo programma e avanti tutto!